Finalmente ho tra le mani il player core, Paeso volva tenerci nascosto tutti i suoi segreti ma ora l'umanità intera deve conoscere la verità che si nasconde tra queste pagine, e io sono l'anello mancante che lo renderà possibile, questa notte il mondo sarà sconfotto. Aspetta, c'è qualcosa di strano qui, no, le berure di esplosione! Diciamo che il nostro sventurato ladro ha fatto una pessima fine, però devo dire che Paeso ci ha concesso i pdf del player core e del master core in anteprima per darvi un assaggio. Questo è il primo video che vi farò vedere un po' cosa c'è all'interno per darvi un po' la sensazione di quello che ci sia dentro di aggiuntivo, come soprattutto è stato riorganizzato, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, e soprattutto darvi delle anteprime succose per, diciamo, poterlo poi voi acquistare. Alle mie spalle cominciate a vedere l'artwork che hanno rifatto ad hoc per il manuale, successivamente ci saranno dei focalizzazioni su quelli che sono i più grossi cambiamenti, quindi sicuramente vedremo cosa è stato della fattucchiera, delle scuole del mago e soprattutto il versatile heritage che li trovate qua, soprattutto nell'applist, quindi lancerò tantissimi video di preview dei vari contenuti. Andiamo subito a cominciare guardando un po' quella che è l'impostazione. Una cosa che, devo dire, mi è piaciuta molto, non tanto per DBF che c'erano i vari bookmarks, ma per chi vuole compararlo a cartaceo, questa è una cosa fantastica. Avendo fatto l'organizzazione, hanno inserito quelli che sono non solo i capitoli e cosa, come era nel core rulebook, ad alto livello, cosa ci sia dentro, ma hanno messo anche tutti i paragrafi inseriti, quindi vedrete effettivamente, quindi una sorta di indice che c'era anche prima, però come vedete, sposto un po' la testa, è riorganizzato molto meglio, sia con i paragrafi che i sottoparagrafi che ci sono all'interno del capitolo in questione, come in questo caso vedete introduzione, e questo cosa vi permette di chi utilizza il manuale fisico di andarlo a sfogliare molto più velocemente, quindi è più ricercabile, oltre che hanno messo più paragrafi e sottoparagrafi per effettivamente chi ha il cartaccio di velocizzare, soprattutto in sessione, questa ricerca. Questa cosa è un qualcosa che, secondo me, mancava totalmente nell'altra versione e devo dire, hanno fatto un grosso lavoro. Tanto per farvene vedere un altro, sulle Ancestri, il capitolo delle Ancestri e in background, c'è sì l'introduzione, ma dopo che si è entrati nel paragrafo delle Ancestri, viene definito elfo, dove siamo, e effettivamente gli altri che mancano. Ovviamente gli altri capitoli e paragrafi non sono esplosi, e vedete che ci sono classi, skill, e così via discorrendo. Pian piano che Arris arriva nel paragrafo corretto, viene esploso. Devo dire, tanta tanta roba, congratulazioni Paeso, di averlo fatto in questo modo. Vediamo che abbiamo, come prima, una veloce introduzione con la creazione del personaggio, la parte di level up, e poi hanno messo due piccole sezioni, mi sposto un attimo, per farvi vedere anche quante pagine sono, per dare a chi inizia una sorta di veloce flavor di quello che gli aspetta all'interno di Golarion e del Inner Sea. Non lungo come c'era quello nel core, ma molto ristretto, dando soprattutto le caratteristiche e esempi di personaggi che possono vivere in quelle regioni. Devo dire questa cosa, mi ha stupito. Altra cosa, anche religioni, spiegazione molto veloce per fare in modo tale che un giocatore che arriva magari da D&D o altri mondi, abbia l'idea, se deve fare un chierico o deve scegliere la propria divinità, una carrellata di quelle che sono le divinità, che potrebbe scegliere con le caratteristiche molto di alto livello. Scendiamo e qui troviamo le varie Ancestri e i Background. Ovviamente questi sono già stati annunciati, sono stati aggiunti il Leshy e l'Orc, e la cosa interessante è il Versatile Heritage. Vi rimando al dettaglio del video che ho fatto su Versatile Heritage per dare più dettagli e anche delle cose aggiuntive. Devo dire che aggiunge ulteriormente customizzazione e soprattutto magari in campagna on brew fare delle proprie razze più specifiche con quella che è definita come Mixed Ancestry. Ma non vi voglio spoilerare niente, andate a vedere il video. Ovviamente ci sono Background e le lingue, diciamo, di base. Come notate, sono circa di introduzione una quarantina di pagine, più o meno, diciamo, era come il Core Rulebook. Invece qui le Ancestry sono di più. Abbiamo cinquantina di pagine sulla parte di Stir, P, Ancestry e Background, che, diciamo, non è male. Poi abbiamo le classi. Qui, diciamo, l'organizzazione è abbastanza standard. Farò un video di dettaglio sulla parte di quelle che sono cambiate di più, quindi la parte di Witch, Fattucchiera e delle scuole del mago, dove farò dare un minimo di preview rispetto a cosa ci aspetta. E poi andrò magari a fare un altro video successivamente sulle varie cose che hanno aggiunto alle altre classi. Qui, diciamo, il formato è fatto allo stesso modo. Non ci sono variazioni di ogni sorta. Soprattutto dal punto di vista dei compagni, quindi i compagni animali, i famigli e gli archetipi, ovviamente, delle classi. Anche qui siamo all'incirca sulle 130 pagine, abbastanza in linea, anche se, diciamo, ce n'erano di più nel base, al posto di 8 erano 12, ma in generale erano una quindicina di pagine in media per ogni classe. Se fate un conto veloce, ci arriviamo, ovviamente, aggiungendo poi i compagni e gli archetipi. Poi abbiamo, cosa che a livello di organizzazione non è cambiata assolutamente, abbiamo le tabelle, quelle che sono le skills. Qui, alla fine, non c'è stato nulla di particolarmente evidente nel cambio. Quelle che sono le fit, anche lì, organizzate allo stesso modo. Siccome, altra cosa importante, c'è stata una suddivisione tra Player Core e Master Core, e qui hanno messo, hanno suddiviso, hanno messo proprio l'equipaggiamento di base per i vari avventurieri. La cosa interessante è che qua dentro, oltre che hanno diviso, hanno inserito anche alcune regole, in modo tale che chi vuole dotarsi di armatura, scudo o armi particolari, può leggere lì le regole aggiuntive, cosa che prima erano sparse, diciamo, un po' ovunque. Quindi qua avete tutta la parte di regolamento per anche, non solo vedere l'equipaggiamento da comprare, ma anche come funzionano, cosa anche qui che mi è piaciuto molto nella varia gestione. Poi abbiamo, al suo interno, quelle che sono la parte, diciamo, un po' più rilevante, che ha avuto più cambiamenti dal punto di vista di, sia di spell, sia dal punto di vista di rinominare quello che era all'interno dell'OGL, per esempio, Runic Weapon, era prima Magic Weapon, quindi cambiato dall'OGL di Wizard of the Coast e così via discorrendo. Anche qui erano più o meno un centinaio di pagine e sono rimaste esattamente un centinaio di pagine. Abbiamo ancora la lista degli incantesimi, non per livello, ma per nome. Anche a me questa cosa qua mi fa un po' strano perché io la ricerco sempre per livello, soprattutto quando devo creare nuovi personaggi e idem lo fanno i miei personaggi, quindi non vado sinceramente per nome, cosa che mi scombina un attimo. Vado per nome unicamente quando vado per referenza, ma quando, diciamo, creo personaggi è nel modo diverso. Qui abbiamo sempre spell list, focus e rituali. Poi abbiamo, come lo era prima, il play in the game. Qua Paizo ha fatto, dal punto di vista sia di struttura sia di spiegazione, diciamo che i contenuti sono gli stessi, ma devo dire che leggendolo ha semplificato la vita dei nuovi giocatori e anche dei vecchi per ritrovare le regole in un unico punto e soprattutto per chi inizia, questo capitolo è stato fatto in modo molto accurato per far capire ogni singolo dettaglio. Come vedete sono 45 pagine, ma contiene in modo veramente spiegato bene e non ripetitivo, perché le vecchie regole, le vecchie, le regole come erano prima nel core, erano riprese in più punti, qua hanno condensato, quindi devo dire che questo capitolo è quello che è stato toccato maggiormente dal punto di vista dell'organizzazione e devo dire meno male perché c'è un nuovo modo per andare attraverso le regole e soprattutto come vedete dai vari paragrafi e sotto paragrafi che poi andrete a vedere, la ricercabilità è massima, cosa che prima si faceva una fatica boia a ritrovare tutte le varie sezioni. E concludiamo con le varie condizioni che ci sono all'interno di PyFounder, sono circa 6 pagine per poi concludere qui. Concludo il video e vi aspetto sugli altri per andare nel dettaglio su quelli che sono i maggiori impatti e non solo a livello di struttura ma anche di regole. e vi suggerisco subito il prossimo video. A presto, ciao!